Raimondo Marchese 47 anni fotografo video reporter 30 anni di carriera sempre alla ricerca di nuove idee è un autentico pioniere ha girato il suo primo pre diciottesimo nel secolo scorso è lui il fotografo scelto dal boss per il video di giusi allora lui è Raimondo Marchese oltre ad essere il più adatto per te ti comunico già che abbiamo dei livelli altissimi di qualità di esperienza di fantasia di artisticità di creatività e soprattutto coinvolgimento psicologico quello che serve a te perché secondo me dentro di te c'è qualcosa che deve ancora uscire e lui cava i ragni dal buco allora giusi cosa hai fatto nella tua vita come fotografia ballando? ci sono scuola di ballo ah scuola di ballare allora? beh oggi è un punto già a nostro vantaggio davanti all'obiettivo non penso che sarò un grand game però alla fine penso che ce la farò appena che ci metteremo un meccanismo nel mezzo della di lavorare insieme c'è quel corpo di freaking now come dico io è una prova che uso sempre quanto ci può lavorare bene Raimondo è una persona allegra grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille